Buongiorno a tutti ragazzi, buon lunedì, anche se sarà un lunedì triste per i colori bianconeri e sarà un lunedì triste pensando al fatto che non ci sarà nemmeno la partita in questo fine settimana per provare a sistemare la classifica, perché la classifica oggi ha assoluto bisogno di essere sistemata io vi avevo detto che ero abbastanza tranquillo per la corsa Champions ma vi dicevo anche che la Juventus avrebbe dovuto fare almeno 4 punti tra Atalanta e Genova per rimanere soddisfatta e tranquilla dalla sua posizione sono ancora convinto che la Juve alla fine si qualificherà in Champions però ora è doveroso invece avere dei dubbi sul fatto che possa accadere la Juventus ha perso troppi punti nelle ultime giornate ma di questo parleremo poi in un successivo contenuto oggi voglio concentrarmi su quella che è Juventus Genoa 0-0 e concludere, abbandonare, superare questa partita, questa prestazione di bassissimo livello di bassissima veramente produzione offensiva da parte della Juventus una partita che è meglio dimenticare e l'unica cosa che posso apprezzare di questa partita è averla vista allo stadio infatti mi piacerebbe poi portarvi un contenuto a parte per parlarvi di quello che è stato lo stadio un pochino ve l'ho già mostrato in realtà ho fatto uscire un video questa mattina alle ore 7 un video in cui c'è anche la clip dove incontro Kenan Hildiz che si stava preparando ad entrare a fine primo tempo anche se poi non è entrato a fine primo tempo e ne parleremo io non so questo tipo di video delle pagelle come finirà perché è stata una partita talmente tanto povera che credo che ci sarà da commentare veramente poco su ogni passaggio, su ogni singolo su Allegri secondo me un po' più di cose le abbiamo da dire e sarà il primo analizzato come al solito sapete che ad Allegri non do più il voto io vi parlo e vi dico quello che credo che possa far parte dell'Allegri dentro la partita poi il voto lo date voi non ho interesse a fare le valutazioni ho interesse soltanto a passare i concetti e lasciando stare anche quella che è la comunicazione perché niente ha a che vedere con la partita di cui abbiamo già parlato in un altro video mi dispiace se l'audio non è stato dei migliori ma in macchina non si potevano fare miracoli Allegri ieri l'ha preparata malissimo l'unica voglia della Juventus era quella di allargarsi sull'esterno e andare a crossare questo è stato l'unico piano gara della Juve i cambi sono stati tardivi perché io credo che Ildiz andasse messo un po' prima tant'è che Allegri manda a scaldare Ildiz, Rabiot e Iling che saranno i primi tre cambi al ventesimo circa venticinquesimo minuto del primo tempo segno che Allegri non era soddisfatto e sarei anche andato a provare a osare con il tridente Chiesa non ha fatto una bella prestazione analizzeremo Chiesa quando arriveremo a Chiesa però la volontà di provare qualcosa di nuovo ci deve essere poi lui è l'allenatore io no io non posso capire io non posso giudicare io non posso sapere perché non sono allenatore però la percezione è che questa Juventus così non possa andare da nessuna parte e che serva qualche modifica dal punto di vista strutturale quindi dell'impostazione in campo della Juve e soprattutto dal punto di vista psicologico ieri vi facevo passare un concetto che voglio farvi passare anche oggi è il momento giusto per esonerare Allegri dato che c'è una pausa nazionale perché è necessario andare a valorizzare e responsabilizzare i calciatori oggi c'è questo parafulmine chiamato Allegri che impedisce ai calciatori di essere messi in prima linea perché si vince è bravo Allegri si perde è povero Allegri si pareggia e vabbè ma Allegri cosa potrebbe fare? si parla sempre di Allegri dopo otto anni alla guida della Juventus non potrebbe essere altrimenti dopo questi risultati negativi nel calcio si sa la colpa la responsabilità va sugli allenatori non potrebbe essere altrimenti e allora per rimettere i calciatori al centro delle loro responsabilità e per fargli prendere davvero le loro responsabilità negli ultimi due mesi serve togliere questo parafulmine punire Allegri ora per poi ragionare quest'estate su quelli che dovranno rimanere alla Juventus in futuro perché i calciatori si giocano il futuro ma finché c'è Allegri davanti dal punto di vista mediatico comunicativo di importanza nei confronti della Juventus sarà difficile se non impossibile parlare dei calciatori ma noi ci proviamo nel proseguo di queste pagelle ma sicuramente ieri Allegri ha sbagliato tanto se non tutto non ha dato nessun tipo di benefit alla squadra scesne 6 e mezzo perché il primo tempo è stato qualcosa di inguardabile di veramente inguardabile e scesne ha salvato la Juventus su quel calcio di punizione del Genoa nei primissimi minuti di gara credo colpo di testa di Bani la Juventus ha rischiato anche di andare sotto nel primo tempo c'è stato più Genoa che Juve e questo è un dato di fatto e questa è una cosa preoccupante nel secondo tempo c'è stata una timida reazione della Juventus che non ha costruito niente ha soltanto allargato il gioco per poi crossare in the box qualcosa di francamente inaccettabile per una squadra che ha fatto un rollino di marcia impressionante e che invece adesso ha una media da retrocessione da quando è iniziato il ritorno mi pare la Juventus sarebbe quarta ultima peggio di lei solo Frosinone Salernitana e Sassuolo se vado vado a memoria ma dovrebbe essere una roba di questo tipo e scesne ha salvato la Juventus ha fatto una parata ed è stata una parata decisiva ai fini del risultato perché sennò Juventus andava sotto anche ieri e probabilmente il gol non sarebbe riuscito a farla dato che la partita è poi finita 0-0 8-6 Agatti per un motivo nel primo tempo è stato l'attaccante della Juve Agatti è stato l'uomo più pericoloso della Juve nel primo tempo un tiro da fuori e un paio di sventagliate dentro l'area di rigore che tristezza ragazzi che pochessa non si può non si può veramente 8-6 a Bremer perché effettivamente ha retto l'urto con Reteghi però ha sofferto anche Bremer ha sofferto perché quando devi iniziare l'azione lì da dietro la Juventus è sempre lenta disorganizzata e allora quando abbia la palla noi siamo veramente incapaci di costruire qualcosa 8-5 a Danilo ha sofferto tantissimo vitigna tant'è che va a prendere quel cartellino giallo su una stessa di partenza mi pare su un errore di chiesa un errore anche a banale in appoggio dal punto di vista tecnico però Danilo anche quando è andato a contestare contro i giocatori del Genoa aveva pure ragione perché aveva pure ragione perché hanno impedito la ripartenza di Chiesny però quanto nervosismo che si avverte dall'espulsione di Vlaovic alla reazione di Danilo la Juventus è nervosa e Danilo è catapultato all'interno di questo tunnel anche preoccupante dal punto di vista del rendimento perché lui può e deve dare tanto di più perché è il capitano io ho tanto rispetto per Danilo e sono convinto che in questo momento non stia andando il 100% cosa che invece ha sempre fatto negli altri momenti di difficoltà della Juve e abbiamo bisogno di lui abbiamo bisogno di che Danilo torni a fare il leader e non che ai microfoni ci vadano i ragazzini a parlare è giusto che ci si assumano le proprie responsabilità anche tutti dal punto di vista della leadership voto 5 a Kostic un paio di sgruppate all'indietro per difendere sui giocatori del Genoa anche due bei recuperi se vogliamo uno soprattutto c'è stato un bel recupero su un contropiede del Genoa ma per il resto quando dobbiamo attaccare è sempre inesistente ieri Allegri cercava questa combinazione sulla fascia sinistra tra lui e Chiesa se voleva andare sempre largo ma abbiamo poche idee ragazzi poche idee anche confuse voto 5 e mezzo a Miretti perché fa e disfa Miretti è quello che ci ha provato un po' di più ma è anche quello che ha sbagliato un po' di più quindi una prestazione tutto sommato non pienamente insufficiente ma nemmeno di quelle che ti fa dire oh però che giocatore nel centrocampo probabilmente il migliore ed è comunque insufficiente e già questo è tutto un dire voto 4 e mezzo a Locatelli la Juventus ha giocato a disegnare i contorni del campo dentro al campo non si poteva andare Locatelli gioca da difensore centrale aggiunto c'è un buco dentro al campo i centrocampisti la Juventus non li usa gioca solo in orizzontale lateralmente per andare a crossare tant'è che Locatelli che è un centrocampista fa il difensore centrale McKennie male anche lui ha tirato la carretta fino a questo punto oggi non sta bene nemmeno fisicamente la prestazione con l'Atalanta è stata eroica ieri è stato puro e sostituito io forse l'avrei lasciato in campo avrei tolto Miretti perché McKennie in questa stagione comunque qualcosa te l'ha sempre tirato fuori però male anche lui 5 e mezzo a Cambiaso perché è un altro di quelli che fa ed Isfa il giallo che prende è anche un giallo ingenuo se vogliamo i cross che mette sono anche pericolosi dalla sinistra sono tutti sul secondo palo e nessuno va sul secondo palo segno che anche nell'unica indicazione del andiamo sull'esterno e crossiamo non siamo organizzati nemmeno per capire dove andrà il cross cioè ho perso veramente il conto dei palloni crossati e anche bene da Cambiaso che andavano da destra verso sinistra sul secondo palo e tutte le volte non ci andavamo e allora ragazzi diventa molto molto complicato diventa molto molto difficile 4 e mezza Chiesa Chiesa ha giocato malissimo malissimo però io ribadisco che in questo momento qui quando le cose non funzionano e sei in casa contro il Genoa e devi sbloccare la partita tu devi mettere quanto più potenziale offensivo dentro al campo e metti Chiesa da una parte e lì dall'altra Vlaovic in mezzo e preghi che in mezzo a questo nulla tattico qualcuno di quelli che ha quel qualcosa in più dal punto di vista tecnico possa fare una giocata una singola giocata che sblocchi la partita e che ti faccia vincere 1-0 in casa contro il Genoa Chiesa ha giocato malissimo malissimo tante scelte sbagliate ed è qui che voglio responsabilizzare i calciatori perché io sono convinto sbaglierò ma sono convinto che Federico Chiesa possa dare di più di più di più e di più di quello che sta dando in questa stagione e per farlo io voglio voglio che i giocatori vengano responsabilizzati messi nelle migliori condizioni per provare a risolvere le partite e soprattutto coraggio nelle scelte a costo di tenere su tre attaccanti perché questa squadra di equilibrio non ne ha e non c'è niente da difendere dal punto di vista dell'equilibrio che non passi il messaggio che i calciatori sono innocenti perché i calciatori l'allenatore lo staff la dirigenza tutti sono colpevole allo stesso modo ma in questo momento se anche i giocatori che ti danno di più sulla carta per carriera per caratteristiche come Chiesa Vlaovic tutti questi qua fanno queste prestazioni qui è logico sperare che possano essere messi nelle migliori condizioni per tornare a fare bene perché Chiesa non è un giocatore che può prendere quattro e mezzo in casa contro il Genoa non esiste non esiste e allora bisogna ripartire da questi calciatori che hai e che ti possano fare differenza e Federico Chiesa è uno di questi quattro Vlaovic perché non mi puoi impassire nel finale in quel modo lì non puoi andare dall'arbitro a dirgli bravo dopo che ti ha munito prendi stai zitto e vai hai sbagliato stop all'interno di una partita in cui non ti è mai arrivato il pallone se non una volta di testa devi fare gol ogni volta che ti arriva un pallone sei una macchina non un calciatore non si pretende questo da Vlaovic però andare ad arrabbiarti con l'arbitro a dirgli bravo dopo che ti ha munito è qualcosa è una leggerezza che non ci può stare poi che questo rosso di Vlaovic racchiuda la perfezione e descriva la perfezione il momento della Juventus io credo che sia un dato di fatto ma anche da Vlaovic stesso discorso di chiesa uno di quei giocatori che possano fare la differenza voglio vederli responsabilizzati e per farlo deve saltare una testa che in questo momento è una testa più importante della Juventus voto sei mezzo a Ildis perché ogni volta che toccava il pallone era l'unico che mi poteva dare la speranza di poter fare qualcosa è il fatto che questo Ildis non giochi in questa Juventus con questo rendimento dopo che l'ingresso di Ildis era stato proprio quella cosa che aveva permesso la Juve di iniziare a fare anche delle vittorie più convincente rispetto alla prima parte di stagione è uno dei più grandi misteri risolti di questa stagione ed è qualcosa di francamente vergognoso non sono l'allenatore sì non sono l'allenatore ma la mia opinione è questa qui giusta sbagliata non lo so ma è la mia opinione se è mezzo a Iling che becca pure il palo pure sfortunato ha dato quel guizzo in più rispetto a Kostic poi non è convincente al 100% però sicuramente se devi cercare di fare una spinta maggiore Iling piuttosto che Kostic è la scelta giusta e mi sembra anche assurdo pensare che Kostic abbia giocato titolare tutta la prima parte d'andata quando Iling ripeto non è perfetto non è un giocatore che non può non essere titolare na Juventus ma è un giocatore che sicuramente ha delle caratteristiche interessanti e andrebbero sfruttate un po' di più Rabiot 5,5 perché è entrato ha aggiunto un po' di peso specifico ma si vede che Rabiot non è ancora al 100% si vede che torna da un infortunio si vede che non è il Rabiot dell'anno scorso neanche lontanamente UEA senza voto è un grande boh io tutte le volte che voglio giocare a UEA dico boh Ken senza voto anche lui ha avuto un'occasione forse fuori gioco se ho capito bene dallo stadio sembrava fosse un fuori gioco però Ken è un altro che viene buttato dentro così quest'anno ancora quota 0 gol ragazzi la Juventus dal punto di vista della fase offensiva è preoccupante è proprio solo dal numero secco di gol e quindi questa è l'analisi di Juventus Genoa 0-0 pagelle che secondo me sono state molto molto rapide non avevo idea di cos'altro dirvi e quindi aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti ciao